una giornata di pioggia e di freddo piove fa freddo e le persone sono interizzite ben coperte vediamo qua com'è c'è qui il nostro bravo bogdan andrea le varie brave persone c'è fatima la dietro c'è maria cassa ci sono queste due brave ragazze italiane che sono arrivate marina e irene marina irene benvenute benvenute loro hanno visto su youtube i vari filmati e ne hanno visti tanti vero che l'aveste visti parecchi ieri molti sì sì bene e allora con youtube sono riusciti a capire la situazione noi li ringraziamo per essere venuti grazie bravissime benvenute la prima volta questa ragazza invece è venuta solo tre volte è tornata oggi per ringraziare perché ha trovato un lavoro giusto benissimo benvenuta e come ti chiami mihaela rumena mihaela benvenuta bene siamo felici che hai trovato un lavoro quindi sei venuta solo tre volte giusto tre volte hai preso la lista pubblica quella che si trova di là giusto non 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 un numero speciale non hai ricevuto nessun numero speciale hai preso la lista e poi hai chiamato e ti hanno preso e ti hanno anche messo in regola benissimo l'hanno messo in regola quindi quanto tempo è che stai lavorando adesso quasi tre mesi quasi tre mesi bene noi ti ringraziamo di essere venuta qui a salutarci brava brava sei felice quindi bene bene e la dietro invece c'è fatima nostra brava fatima con la bimba è venuta con la bimba ieri era venuto suo marito suo marito era venuto ieri anche oggi si è ieri è venuto la prima volta no e poi oggi oggi è venuto si ieri però era venuto da solo è stato con noi fino alla sera no alfa si chiama alfa alfa omega si dove alfa dove alfa va bene e qui c'è il nostro nupana bravo nupana manca nulat e lì invece c'è jean belem e cul dip e poi tudor tudorino il benedettino che ci fa le benedizioni benissimo vedete le persone che sono là sono tutti rintanati perché fa freddo e poi ecco qua è arrivato alfa che era venuto ieri ha preso anche il vangelo hai incominciato a leggere il vangelo alfa ha incominciato a leggere un pochettino sì bravissimo bene allora benvenuti a tutti quanti voi c'è anche questo ragazzo filippino qua bene 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 e io vi ringrazio per la vostra presenza adesso ci sarà tra un po una breve lettura della parola di dio vediamo quello che il signore ha riservato per noi dal tavolo lo leggeremo poi ci saranno due momenti di preghiera di lettura al pulpito di là grazie a dio